Nasce a Catania Gourmet Experience per i veri intenditori del caffè e delle golosità che tradizionalmente il prodotto richiama. La nuova finestra specializzata sul settore del caffè porzionato in cialde e capsule e macchine espresso professionali si trova in via Giuffrida Castolina 23, zona Vulcania ed offre un'offerta selezionata di prodotti a tutti gli amanti delle miscele e marchi più esclusivi da sempre sinonimo di garanzia per chi non rinuncia a gusto e qualità accontentandosi delle proposte base sugli scaffali della grande distribuzione. Qui troverete la vazza nel caffè e bottega delle cialde e l'esclusivissimo mondo dell'azienda Caffè Borbone. Nel punto vendita si dispone di un'altrettanta ampia selezione di tè, cappuccino e cioccolato di macchine professionali e sfiziose idee regalo. A tagliare il nastro è stato il deputato regionale Nino Dasero che ha elogiato la capacità di scommettersi nell'imprenditoria auspicando un effetto traino per il commercio cittadino. È un equilibrio a cui maggiormente bisogna guardare che vede da una parte i centri commerciali per momenti magari di aggregazione, di acquisti particolari ma ci saranno magari le attività nei centri storici che servono a dare un senso di vita, un senso anche di qualità dei prodotti che sicuramente nella grande distribuzione probabilmente sono anche presenti ma lì vige il principio dell'economia di scala dei prezzi più bassi. Io mi permetto di dire che proprio in questo credo ho presentato un disegno di legge che torna verso la possibilità del prestito d'onore che non è più presente con la vecchia norma ma io nell'ambito del de minimis prevedo questa possibilità. Presente all'evento inaugurale anche il presidente della terza municipalità Salvorapisarda segnali di risveglio del quartiere Reduce Tanni Bui. Un quartiere che stava diventando morto, oggi con le attività che pian piano riaprono e soprattutto anche con il parco di Vulcani il parco che il comune era qualificato con le tre aree di sgambamento Bambinopoli e anche il playground di basket e con questo rapporto bionivoca pian piano la gente si sta riappropriando di uno spazio che era quello una volta del centro commerciale il primo centro commerciale di tutta la provincia di Catania. Interesse e curiosità affre presenti in occasione del lancio della nuova attività, esperienza nel settore e passione corredata dall'amore per la città hanno spinto il giovane Massimiliano verso la nuova avventura. Catania sta dimostrando negli ultimi tempi di reagire a quello che è stato un contesto economico difficile negli ultimi mesi stiamo registrando dei dati di incremento e delle attenzioni sempre più accentuate sul comparto del caffè questo ci ha portato appunto ad investire proponendo un assortimento che soddisfi le esigenze solo l'inizio di un progetto più ambizioso del giovane imprenditore intanto Gourmet Experience vi aspetta già in via Giuffrida Castorina 23 di fronte all'ex 100 commerciale Vulcania